Voi altri che siete soliti prendere lo spritz come aperitivo sappiate che il vero spritz, il padre di tutti i spritz è questo. È nato a Venezia nel 1920 a cura dei fratelli Pilla. È nato niente po' di meno che all'arsenale di Venezia. Ecco, si chiama Spritz Select. Si mangia su di va, devi far vedere che ti gusta. C'è proprio tutto un rituale per mangiarlo, per gustarlo e anche per assuntore, per far vedere che sei raffinata, che te su Spritz Select lo conoscevi già da tempo. Ecco, gustasse su Riva. È proprio, come ti posso dire, ecco Fabio. Un atteggiamento questo. Dai però. Ciao! Grazie per la visione